A Chiaravalle iniziati i festeggiamenti in onore della Madonna della Pietra. Sono iniziati a Chiaravalle i festeggiamenti in onore della Madonna della Pietra, con il trasferimento della statua dalla chiesa matrice al santuario in località Foresta. Quest'anno dietro la statua solo la macchina dei carabinieri per le restrizioni anti-covid. Ma dopo aver attraversato il paese con la gente a salutare la Madonna in una cornigia di nastri celesti e fiori dappertutto, è arrivata al santuario tra una marea di fedeli. Tu sei benedetta per la donna e benedetta è il frutto del tuo seno di Gesù. Prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. E viva Maria! Va bene così? Va bene. Para! Grazie a tutti! Maria, Regina della Pace Nel primo mistero della gloria, contempliamo la resurrezione di Gesù dal Vangelo secondo Matteo. Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Grazie. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti.